Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sono Eletzei, il car spotter della collina e stasera mi toccherà scendere in pianura, ma per una buona ragione. Io, assieme alla gang del Motor Valley Car Meeting, andremo ad un raduno organizzato dai ragazzi del Modena Street Show a Modena, in un parcheggio multipiano, e non andremo con questi bolidi. Peccato, non andremo nemmeno con la mia bimba, ma saremo in cinque mezzi croccantissimi. No spoiler, non vi dico quali, vi dico solo che contando i cavalli saremo attorno ai 2150 e contando i cilindri 34. Non male, ci divertiremo. Enjoy the video! Primo arrivato! Ciao! Siamo arrivati, il R8 è in fondo, e qua c'è l'R8. Wow, top! E qui invece c'è la Mini, molto 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 bella e molto anche molto bassa. Adesso aspettiamo Silvio, con i suoi due bolidi e Barrix. Non ho mai visto furgoni così veloci. E' arrivato Barrix. E' arrivato Barrix. Michael! Ehi! 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 Mi forne ordine! Ehi! Ehi! malfevovovovovovovovovovovovovovovov! 612 cavalli questa l'alamba invece è 640 io sono arrivato da lì, è tutto vuoto tranquillo e siamo a bordo della R8 non vogliamo neanche lui, non vogliamo fare le foto 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 m Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.